Carissimi amici, buon pomeriggio dalla sede del Parlamento europeo a Bruxelles, buon pomeriggio a Mariella Riccardi, candidata a Reggio Emilia della lista di Fratelli d'Italia, pensionata ma sei stata cooperatrice bianca nel settore dell'edilizia, buon pomeriggio ad Alessandro Aragona, bancario, portavoce di Fratelli d'Italia a Reggio Emilia, capolista di Fratelli d'Italia in una coalizione in cui il candidato sindaco è Donatella Prampolini, presidente della Confcommercio e buon pomeriggio a Paolo Zecchetti, candidato sempre di Fratelli d'Italia a Reggio Emilia e consulente assicurativo. Mariella, tu hai avuto un'esperienza nell'ambito dell'attività dell'edilizia, l'edilizia è uno di quei settori che oggi è fortemente in crisi in un contesto in cui tutto quanto è in crisi. Il messaggio che tu vorresti rivolgere ai tuoi elettori? Io ho accettato questa sfida perché vedo che la città sta versando in un degrado, soprattutto edilizio, abnorme. Vedo che la città non è più frequentabile come poteva essere un tempo perché ci sono cantieri interminabili che durano da mesi e mesi e quindi compromettono viabilità e tutto. Mentre i lavori nuovi non partono perché le amministrazioni tardano e aspettano tempi lunghissimi per non far partire i cantieri, per non assolvere i debiti che hanno anche pregressi. Per cui io vorrei che il settore in cui ho lavorato più di 30 anni potesse essere rilanciato e che la nostra città prendesse fiato. Vorrei anche che nelle amministrazioni la meritocrazia potesse riprendere ad avere il sopravvento perché quando noi abbiamo rapporti con queste amministrazioni veramente troviamo intralci dappertutto e si moltiplicano i tempi che diventano biblici. Ormai le imprese di costruzione non riescono assolutamente più a sopportare questa e i cittadini nella stessa maniera. Alessandro, l'80% delle famiglie italiane è proprietaria della casa. Queste case oggi sono svalutate del 30 e del 40% e la cosa particolarmente vessatoria nei confronti dei cittadini, tu che sei un bancario e la realtà la conosci bene, è che le banche sono talmente zeppe di case confiscate dalle famiglie che non possono pagare il mutuo della casa, la rata del mutuo della casa, che oggi la casa non è più accettata come garanzia per il credito. Si crea una spirale suicida in cui si riduce l'ammontare complessivo dei crediti erogati dalle banche e la massa monetaria diventa sempre più insufficiente per chi produce e per chi consuma. Come se ne esce fuori? Il problema è un problema che non si risolve facilmente perché ormai come hai accennato tu la spirale è arrivata a un punto tale che è difficile da fermare. Se ne esce fuori innanzitutto il primo punto è assolutamente rivalutare il bene casa come bene primario degli italiani, quindi eliminare fin da subito tutte le imposte vessatorie su questo bene. La prima casa senza tasse. Assolutamente, da questo è un punto di non ritorno. Possiamo darlo come messaggio elettorale forte, impegno di Fratelli d'Italia a eliminare la tassa sulla prima casa. Aggiungiamo che nel programma della Donatella Prampolini, il nostro candidato sindaco che è sostenuto da tutta la coalizione di centrodestra finalmente a Reggio Emilia, il tema delle tasse non solo è prioritario ma è prioritario il tema delle tasse sulla casa e vorremmo veramente che a Reggio Emilia diventasse l'esempio in Italia da questo punto di vista. Questo perché? Questo perché anche se come vari dati hanno dimostrato l'importo in se stesso di quella che era l'ICI, poi l'IMU, poi chissà come si chiamerà, sembra in alcuni casi esiguo, questo è come meccanismo di aspettativa sul mercato dell'edilizia creato una contrazione dei problemi giganteschi che hanno creato quella spirale di cui prima tu parlavi, quindi questo soprattutto per anche la campagna naturale reggiana sarà sicuramente una priorità per la Fratelli d'Italia. Paolo, tu come consulente assicurativo, qui c'è da assicurare tutto, c'è da assicurare un paese, qual è il messaggio che tu ritieni di dover rivolgere ai tuoi elettori? Io penso che da assicuratore vedo che uno dei grossissimi problemi oggi è la sicurezza, quindi la gente ha tanta paura, purtroppo abbiamo un grosso degrado sia del nostro centro storico soprattutto e quindi questo mio impegno nasce dalla richiesta di tanti amici conoscenti che sentono proprio questa spiccata necessità di rendere il tutto più sicuro, me ne accorgo io perché vengono a fare polizze furto in modo sempre più incessante perché purtroppo è l'esigenza maggiormente sentita, quindi il mio impegno sarà sicuramente per togliere quelle aree di degrado, togliere quella microcriminalità più o meno micro perché purtroppo a Reggio abbiamo vissuto anche un qualche esempio di macrocriminalità importata dal di fuori e quello sarà sicuramente il mio primo impegno, il messaggio che voglio lanciare è tolleranza zero, non accettiamo io quelli che sono al mio fianco e basilare per tutti noi, tolleranza zero, non possiamo più accettare certe situazioni, andare in certe zone della città dove c'è il degrado più totale, dove le persone non hanno più la tranquillità di potersi muovere e camminare in piena tranquillità, quindi questo lo faremo utilizzando la Polizia Municipale che è l'organo che a livello comunale si può gestire in prima battuta, quindi utilizzare la Polizia Municipale non come dei semplici riscossori che vanno in giro a fare delle multe per i divieti di sosta, ma per tutelare la vita dei cittadini che per noi è la cosa principale, per noi la vita è sacra dal primo momento, dal concepimento fino all'ultimo giorno, questo è al di fuori di tutto, quindi anche nel durante è la nostra cosa principale, quindi prima cosa la Polizia Municipale la utilizzeremo per fare effettivamente la Polizia Municipale, quindi il degrado deve sparire. Casa, banca, assicurazione, i soldi, il 25 maggio ci sarà un referendum che mette al centro l'euro, di euro noi rischiamo di morire, l'euro è una realtà che sta trasformando uno Stato ricco in una popolazione povera. Dobbiamo decidere se continuare a tenercelo costi quel che costi, con la prospettiva anche che l'Italia come Stato, come nazione, come civiltà venga facocitata negli Stati Uniti d'Europa a un protettorato tedesco oppure riscattare la nostra sovranità monetaria e salvaguardare l'Italia e la nostra civiltà. Mariella, qual è la tua scelta? Io sono d'accordissimo con quello che dici tu, perché sono convinta, anche perché ti ho già ascoltato e ho letto anche quel libricino che mi hai dato, che secondo me è espresso proprio in un modo chiarissimo questo concetto, ho abbracciato completamente la tua tesi e sono convinta, anche perché come dicevi tu qualche anno fa con un milione e 500 euro al mese le famiglie vivevano decorosamente, oggi si muore di fame, in più continuano a toglierci dalle pensioni e ci impoveriscono ogni giorno di più. Alessandro possiamo ricordare che anche a Fiucci al recente congresso di Fratelli d'Italia la Giorgia Meloni, la nostra Presidente, ha formalmente assunto una posizione a favore dell'uscita dell'Italia dall'Euro. Sì, a Fiucci è stata effettivamente una svolta decisa in questo senso della dirigenza di Fratelli d'Italia, storica, direi storica, andando molto oltre quello che era il programma iniziale di Fratelli d'Italia, questo perché effettivamente quella che doveva essere l'Unione Europea, quello che doveva essere il sogno di molti noi giovani almeno, quelli che vedevamo l'Europa quando eravamo bambini è diventata quella che ci piace chiamare adesso l'Unione delle Repubbliche Socialiste Europee più che l'Unione Europea, un'Unione Europea che non c'è là dove ci dovrebbe essere, quindi a difendere la civiltà dell'Europa, la storia dell'Europa, la cultura dell'Europa, le tradizioni dell'Europa, mentre c'è molto e troppo invece là dove non ci dovrebbe essere, quindi con vincoli, legislazioni, burocrazie che decuplicano quelle che già abbiamo in Italia storiche e inefficaci. Quindi in questo senso dobbiamo avere il coraggio di rimettere in discussione tutti i trattati che abbiamo firmato da quando abbiamo aderito a questo progetto con l'obiettivo finale appunto di rimettere in discussione quest'Europa che non è l'Europa che ci soddisfa. Certo, Marine Le Pen la definisce l'Unione Sovietica Europea perché non c'è solo la moneta ma ci sono anche delle leggi che ci spogliano della nostra civiltà e della nostra sovranità legislativa. Paolo, qual è la tua valutazione? Sottoscrivo interamente quanto affermato da Marine Le Pen, senza ombra di dubbio. Dobbiamo riprenderci la nostra storia anche perché non dobbiamo dimenticarci che noi siamo tra quelli che hanno fatto la storia. Il popolo italiano ha creato la storia, oggi non abbiamo più assolutamente nulla, non siamo più padroni di nulla e quindi dobbiamo riprenderci ad ogni costo, passatemi questo termine che è un po' forte ma purtroppo a me non piacciono le cose molto dolci, cioè le cose bisogna arrivarci, bisogna dirle chiare e bisogna lottare per arrivare al punto che ci si è fissati. Grazie, Antonio Maria Rinaldi dice dobbiamo riprenderci le chiavi di casa. Senza ombra di dubbio, sottoscrivo pienamente anche perché la casa, come ha detto prima Alessandro, è un bene sacro e inviolabile, questo tutti lo devono capire. Grazie a Mariella, grazie ad Alessandro, grazie a Paolo e ancora benvenuti nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles. Grazie a te e un saluto a tutti. Grazie a te e un saluto. Grazie a tutti.